Allora, la longevità progredisce con una migliore qualità della vita. Le vaccinazioni devono essere in prima linea per proteggere gli anziani, in particolar modo il vaccino contro l'influenza, contro l'herpes zoster, contro l'opinomococco e un booster di richiamo di pitotetano per tosse. Questi vaccini hanno una notevole importanza perché si rivolgono in soggetti fragili come sono gli anziani. Come ci stiamo preparando nella prossima campagna di vaccinazione anti-influenzale, anti-primococica, perché sono strettamente collegate e connesse anche se l'opinomococco e l'herpes zoster sono fuori stagionalità, però comunque durante il periodo anti-influenzale vengono vaccinate soprattutto perché sono coinvolti in prima persona i medici di famiglia. Perché questo è il dato più importante, cioè le campagne di vaccinazione della Regione Lazio negli ultimi anni sono improntate al concetto di appropriatezza, soprattutto per quanto riguarda il vaccino anti-influenzale. Cioè esistono vari vaccini anti-influenzali in rapporto all'età e allo stato di salute. Quindi noi abbiamo dato largo spazio in questi ultimi anni all'utilizzo di vaccini potenziati, perché noi sappiamo che gli anziani sono immunosonescenti, hanno una minore risposta immunitaria, quindi utilizzando i vaccini anti-influenzali adiuvati con una sostanza che amplifica la risposta immunitaria sicuramente c'è un maggiore potenziamento della risposta immunitaria. E ancora noi sappiamo benissimo che non basta soltanto vaccinare i soggetti fragili e i loro contatti stretti, ma l'efficacia protettiva della vaccinazione anti-influenzale dipende anche dalla percentuale di copertura del vaccino nella popolazione generale. Questo è il dato importante. L'altro concetto che permea le campagne di vaccinazione anti-influenzale, anti-premococica e anche il discorso della vaccinazione anti-influenzale sono legate alla ampia partecipazione dei medici di famiglia, perché loro sono gli attori principali sul territorio, quindi per un approccio personalizzato ovviamente il paziente dei medici di famiglia, ovviamente se viene informato dei vantaggi della vaccinazione anti-influenzale, anti-premococica sicuramente risponde con maggiore livello di adesione alla vaccinazione. Quindi gli attori principali sul territorio sono i medici di famiglia, per quanto riguarda le fasce pediatriche dei soggetti rischi e i pediatri di vera scelta, gli operatori dei centri vaccinali. In più, caratteristica ancora della regione Lazio, l'avere utilizzato anche i percorsi ospedalieri, perché noi sappiamo benissimo che molti dei soggetti fragili, soprattutto immunopresi, immunopresi, ma pensiamo ai pazienti oncologici, ai pazienti reumatici, hanno tassi di immunizzazione molto bassi. Quindi avere la possibilità di un percorso ospedaliero con un contatto diretto con lo specialista che cure il caso sicuramente dà un vantaggio ad ampliare la vaccinazione in queste categorie.